Eccoci sul palcoscenico della Verdi in Largo Malera a Milano. Dietro di voi avete la platea, io davanti a voi voi non vedete ma ho l'orchestra, ho gli strumenti, ho le percussioni, tutti gli altri strumenti non ci sono e siamo pronti per fare questa lezione specifica per musicisti. Ovviamente anche chi non è musicista può farlo, è specifica perché? Perché andremo a lavorare coi punti che magari per dei musicisti sono le aree in cui si concentra un pochino più di tensione, quindi mani, braccia, polsi, collo, spalle e schiena. Chi di noi non ha qualche tensione in questi punti? Quindi anche se non siete musicisti potete fare questa lezione potete trarne giovamento. Ci concentreremo quindi sulla parte alta del nostro corpo ma cominciamo sempre con i nostri piedi, dalle fondamenta. Quindi prendete un tappetino, mettetevi in piedi, sui vostri piedi, che sono distanziati tra di loro almeno tanto quanto le vostre anche, anche un pochino di più. Osservate come appoggiate i piedi a terra, se avete le dita dei piedi un pochino che scappano verso i lati, provate a mettere i piedi paralleli. Guardateli, sollevate tutte le dita dei piedi, provate a rimettere giù soltanto i due alluci e poi a mettere giù le altre quattro dita, cercando di fare spazio tra un dito e l'altro e lasciando che le dita prendano qualcosa del tappetino, quindi lasciando delle dita dei piedi attive. Le ginocchia sono un pochino piegate, non del tutto, però neanche bloccate indietro, quindi hanno un po' di gioco. Questo ci facilita la giusta postura per quanto riguarda la nostra schiena, quindi pensate di spingere la base dei vostri glutei verso il basso e di allungare quindi il tratto lombare della vostra colonna vertebrale. Per far questo gli addominali un pochino devono attivarsi, quindi magari sentite un pochino che la vostra pancia, che il vostro ombelico è un pochino risucchiato nella vostra pancia. Gli addominali stanno bene e si stanno attivando. Lasciate le braccia lungo il corpo, potete sciogliere un po' la schiena, ruotare un po' le spalle, sciogliere un po' le braccia, respirare. Potete anche chiudere gli occhi, perché con i piedi distanziati magari è facile stare in piedi, sarebbe più difficile se aveste i piedi appiccicati uno all'altro, ma con i piedi distanziati dovremmo avere una base stabile. Se vi dà fastidio però chiudere gli occhi o se perdete l'equilibrio guardate un punto davanti a voi, non proprio vicino a voi, sennò il vostro collo va verso il basso, ma almeno un metro e mezzo distante da voi. Ok, incrociate le dita delle mani, allungate le vostre braccia davanti a voi, ruotate i palmi delle mani, respirate, chiudete ancora gli occhi, guardate i vostri palmi delle mani, tenete sempre un pochino le ginocchia piegate, le vostre braccia sono parallele al pavimento, respirate e inspirando portate le braccia verso l'alto e quindi i palmi delle mani guardano il soffitto. Di nuovo chiudete gli occhi, respirate, cominciate a sentire questo stretch in questo allungamento delle spalle, delle braccia, dei polsi e portate di nuovo le vostre mani davanti a voi. Se avete male alle vostre spalle sciogliete, se no rimanete lì, respirate e ispirando riportate le mani verso il soffitto, potete guardare le vostre mani o se vi dà fastidio alle vostre cervicali guardate davanti a voi, io guardo il tamburo. Provate a spingere le vostre spalle verso il basso e i palmi delle mani verso l'alto, se è tanto sciogliete, se no rimanete ancora un paio di respiri ed ispirando riportate le braccia davanti a voi e sciogliete. Scegliete i polsi che si sono attivati, sciogliete le braccia che cominciano ad attivarsi e lo ripetiamo con una variante. Rultiamo i palmi delle mani, portiamo i palmi davanti a noi, le braccia parallele al tappetino, al pavimento, ispirando portiamo su le braccia e poi andiamo verso destra con le nostre mani. Respiriamo, respiriamo, allunghiamo tutto il lato sinistro del corpo e ritorniamo al centro, ispirando. Inspiriamo ed espiriamo, andiamo a sinistra. Provate a vedere, non tirate su i piedi, provate a vedere dov'è la vostra massima estensione, magari non questa prima volta che lo fate, ma ispiriamo, torniamo al centro, ispirando questa seconda volta, magari potete allungare ancora di più i lati del vostro busto, le vostre braccia. Cercate di non compensare con i fianchi, quindi i fianchi stanno lì, è il busto che si allunga e le vostre braccia. Tornate al centro, se siete stanchi sciogliete, se no andiamo a sinistra, nuovo, chiudete gli occhi, con gli occhi chiusi è più facile concentrarvi, concentrarci, torniamo al centro e questa volta sciogliamo sì le braccia, sciogliamo braccia, sciogliamo polsi, spalle, è come se ci mettessimo in posizione in cui la circolazione dopo poco si ristabilisce, si ha tipo una scarica e quindi quando portiamo giù le braccia sentiamo, non so se le sentite più leggere, come se facessimo pompare più sangue in quel momento là. Di nuovo incrociate le dita delle mani, palmi delle mani rivolti davanti a voi, ispirando portate sulle braccia, questa volta le portate a destra come prima e poi fate un cerchio, le portate davanti a voi, le portate a sinistra e in alto. A destra chiudete gli occhi, in centro, sinistra e in alto. Provate a invertire il giro e provate a lasciare il bacino dov'è. E soltanto, sono soltanto i vostri lati del busto, le vostre braccia che fanno questo piccolo cerchio. Facciamolo ancora dall'altra parte, verso destra, in senso anti-orario, sinistra, su e sciogliamo di nuovo. Bene, se avete anche male alle vostre gambe, magari sciogliete anche le vostre gambe un pochino i vostri piedi. E ci preoccupiamo adesso dei nostri polsi. Fate un pugno, portate le vostre braccia sempre davanti a voi e provate a portare verso il basso le vostre nocche. Sentirete che la parte dorsale delle vostre mani si tende un pochino. Pensate sempre di piegare le ginocchia un pochino, spingere gli schi verso il basso, quindi di non inarcare troppo la schiena. Pensate all'aria lombare, come se volesse allungare, non si volesse inarcare. Giù le nocchie, respirate, cercate di sentire dove sono le vostre spalle. Se sono vicino alle orecchie, portatele giù. E portate su le nocche, quindi il vostro pugno portatelo verso l'alto. Respirate, se vi fanno male le spalle, dopo un po' sciogliete. Respirate e di nuovo portate giù le vostre nocche. Questa volta allungate le dita delle mani. Respirate di nuovo. Ispirate ed espirando portate su le dita delle mani, come se foste davanti a un muro e dovesse spingerlo lontano da voi. Ancora un inspiro e ancora un espiro e sciogliete. Non sono più leggere le vostre braccia, i vostri polsi. Facciamo un altro esercizio per i vostri polsi. Incrociate le dita delle mani. Ruotate i vostri polsi in avanti e indietro. Sentitevi sempre ben ancorati a terra, quindi tutta la pianta dei piedi a contatto, le dita dei piedi lavorano, le gambe sostengono. Tutto quello che abbiamo detto prima, anche se ci concentriamo su parti specifiche del corpo, non cambia. Sciogliete, allungate il braccio sinistro davanti a voi, dita delle mani verso l'alto. Prendete le dita delle mani con il palmo della mano destra e portate le dita delle mani verso di voi. Non inarcate la schiena, non bloccate le ginocchia. È come se il vostro baricentro volesse andare un pochino verso il tappetino. Vi dà stabilità e vi fa respirare anche meglio. Chiudete gli occhi e scegliete. Allungate il braccio destro, dita delle mani verso l'alto. Prendete le dita delle mani col palmo della mano sinistra e portate le dita verso di voi. Chiudete gli occhi e respirate. Sentite la pianta dei piedi a contatto, le gambe attive, le spalle verso il basso e un leggero stretching dei vostri polsi e delle vostre braccia. E sciogliete. Ruotate un po' le spalle indietro per sciogliere, visto che abbiamo tenuto le braccia parallele per un po' di tempo, quindi hanno sostenuto il peso delle nostre braccia. E sciogliete anche il busto, andando verso destra e verso sinistra. Lasciate le vostre braccia cadere. Non hanno peso, non sono loro che avviano il movimento, ma è il vostro bacino. Le braccia seguono. Sciogliete, sciogliete tutto il busto. Chiudete gli occhi se volete. Se perdete l'equilibrio apritevi. Ok. Ok. Mettete le mani sui fianchi e distanziate ancora di più i piedi tra di loro. Ups. Cercate di tenere i piedi sempre paralleli, quindi che le punte dei piedi non vadano verso l'esterno. La distanza dei piedi la vedremo tra un secondo. Magari dovete distanziarli un pochino di più perché ci piegheremo in avanti, però potete modificare la postura tra un po'. Attivate subito però le gambe, quindi sentite che le vostre rotule spingono verso l'alto. Incrociate le dita delle mani dietro la schiena, aprite le spalle ma non inarcate i lombari, quindi tenete sempre l'ombelico verso la colonna vertebrale risucchiato. Aprite le spalle e respirate come sempre. Se lo sentite già lo stretching alle spalle non fate quello che vi sto per proporre e se no le vostre mani che sono adesso a contatto con i vostri glutei potete staccarle un pochino e quindi portarle indietro. Fate sempre molta attenzione a come muovete la vostra colonna vertebrale, quindi se sentite che i lombari si stanno inarcando non distanziate troppo le mani dal vostro corpo. Ascoltate dove il vostro corpo vi dice che può andare, non andate oltre perché non serve. E riportate dopo un paio di respiri le mani vicino ai glutei. Lo rifacciamo, inspiriamo, espirando le stacchiamo oppure rimaniamo lì con le mani vicino ai glutei. Se stacchiamo le mani le portiamo indietro, spingiamo la base nei nostri glutei verso il basso. Respiriamo, cerchiamo di capire dove possiamo arrivare. Non vi scordate dei vostri piedi, paralleli, spingono sul tappetino per spingere le nostre gambe verso l'altro e sostenerci. Ed espirate, sciogliete. Mettete le mani di nuovo sulle anche, ispirando raddrizzate la vostra schiena come se qualcuno dall'apice della testa vi stesse tirando verso l'alto, quindi come se stesse creando spazio tra una vertebra e l'altra. E poi, espirandovi piegati in avanti, provate a mettere le mani a terra. Ecco che potete modificare la postura qui. Quindi magari potete allontanare un pochino i piedi per avere le mani più vicine al tappetino oppure piegare anche un po' le ginocchia. Se le vostre mani sono nell'aria, mettete dei libri sotto le dita, quindi non lasciatele fluttuare nel vuoto, ma mettete sotto di voi uno spessore, qualche cosa. Va bene anche mettere soltanto i polpastrelli, basta che siano salde da qualche parte. Raddrizzate la vostra schiena, ispirando, testa su ed ispirando piegate i vostri gomiti, le mani possono andare verso la fine del tappetino e lasciate cadere la testa, verso il tappetino. Cercate di non aprire i vostri gomiti verso l'esterno, ma di tenere i vostri avambracci paralleli tra di loro. Cercate di attivare le vostre gambe e di non aprire le punte dei piedi. Respirate. Se è tanto potete anche non piegare i gomiti e lasciare le vostre mani, le vostre braccia tese. Provate a lasciare andare la testa verso il tappetino. Respirate. E se sentite che le spalle anche vanno verso le vostre mani, spingetele verso l'alto, come se la punta delle vostre scapole volesse andare verso il soffitto, come se le spalle volessero andare lontane dalle orecchie e non cadere verso il tappetino. Se lo fate, dovete accorgere che i lati del vostro busto si attivano. Ispirate, raddrizzate le vostre braccia, ispirate, mettete le mani sui fianchi e venite su, ispirando. Molto bene. Andiamo all'inizio del nostro tappetino. Abbiamo i piedi uniti, le braccia lungo il corpo, facciamo un piccolo saluto al sole e poi ci sediamo. Ispiriamo, ruotiamo i palmi delle mani e li uniamo sopra di noi. Ispirando, testa giù, ci pieghiamo. Piegate anche le vostre ginocchia, sempre se le mani stanno fluttuando nel vuoto. Ispirando, raddrizzate la vostra schiena. Se le mani non sono sul tappetino, potete metterle sulle tibie, raddrizzare la schiena, spingere le spalle lontane dalle orecchie, come se la vostra schiena fosse un tavolino. Mani a terra, i piedi vanno alla fine del tappetino, porto le mie spalle sopra i miei palmi delle mani, metto le ginocchia a terra e mi sdraio. Punto i miei piedi, attivo le mie gambe, raddrizzo le mie braccia, gana, testa in su, ginocchia sul tappetino, rigiro i piedi, stacco le mie ginocchia e porto i miei ischi verso la parete di fondo. Sciolgo un pochino le mie gambe, piegando e allungando le gambe, piegando le ginocchia. respirando, spingendo dai palmi delle mani le mie spalle lontane dalle dita delle mani. Inspiro e metto le ginocchia a terra e mi trovo a quattro zampe. Da qua, inspirando, faccio la gobba, spingo le spalle lontane dai palmi delle mani e metto la testa, il mento verso lo sterno. Respiro, spingo l'ombelico anche verso il soffitto, oltre che la colonna. Ed espirando, inarco la schiena, porto la testa verso l'alto, le spalle indietro e l'ombelico verso la colonna vertebrale. Inspiro di nuovo, porto la schiena verso l'alto facendo la gobba, mento verso lo sterno, respiro. Inspiro ed espirando, inarco la schiena, testa su, spalle lontane dalle orecchie. Trovate una posizione neutra della vostra schiena adesso che non sia né inarcata né ingubbita, quindi pensate di allungare la vostra colonna vertebrale al suo massimo. Quindi qualcuno vi stia sempre tirando dall'apice della testa verso in avanti e qualcuno dal coccige vi stia tirando indietro. Ok, portate il vostro palmo della mano sinistra un pochino verso il bordo del tappetino e portate su il braccio destro. Se non vi dà fastidio guardate in direzione del palmo della mano destra. Aprite il vostro busto verso destra. Se vi dà fastidio tenere il braccio destro su, portatelo verso come se lo piegaste e mettete il govito sulla schiena e spingete la spalla destra verso l'alto. Ora infilate il braccio destro sotto il braccio sinistro, mettete l'esterno della vostra spalla destra sul tappetino e la tempia destra sul tappetino. Se volete, se già sentite uno stretching, rimanete qua. Se volete sentire uno stretching un pochino più profondo, staccate la mano sinistra e come abbiamo fatto con il braccio destro, mettete il vostro braccio sulla schiena. Magari la mano afferra la coscia, la mano sinistra afferra la coscia destra. Come volete. Provate a vedere anche qua il vostro corpo dove arriva. Respirate. Come sappiamo arrivare il nostro corpo? Se in una postura riusciamo a respirarci dentro. Se sentite un respiro affannoso o sentite che vi manca il fiato, vuol dire che state esagerando. Quindi ritornate alla posizione in cui potete respirare dentro e quasi rilassarvi. Rimettete le mani sul tappetino, mettete il dorso dei piedi a terra, iscrivete sui talloni, allungate le vostre braccia e la vostra schiena. Fronte a terra, respirate. Potete ondeggiare un po' a destra e a sinistra per sciogliere la schiena, allungare le braccia. Provate a non mettere i gomiti sul tappetino ma a spingere via dai palmi delle mani le vostre braccia. Quindi le vostre braccia sono attive. E di nuovo riportatevi a quattro zampe. Io vi consiglio di mettere le dita dei piedi a terra perché avete più presa ma se siete più comodi e vi fa male tenere le dita dei piedi sul tappetino mettete pure il dorso dei piedi. E lo facciamo dall'altra parte. Quindi spostiamo un pochino la mano destra verso il bordo del tappetino e solleviamo il braccio sinistro verso l'alto, respirando, respirando. Oppure, come abbiamo fatto prima, il braccio sinistro è poggiato sulla schiena e spingete la spalla sinistra verso l'alto. Inspirate, poi infilate il braccio sinistro sotto il destro. Mettete il lato esterno della vostra spalla sinistra e la vostra tempia sinistra sul tappetino o rimanete con la mano destra qua oppure staccate la mano e portate il braccio destro dietro la vostra schiena nella mano e magari va a prendere la coscia. Spingete la spalla destra verso l'alto, chiudete gli occhi, respirate, sentite come è il vostro respiro e decidete fin dove potete arrivare. Facciamo una torsione del busto, delle spalle, del collo. respirate e di nuovo mettete la mano destra a terra, la mano sinistra a terra, dita dei piedi ce li avete già sul tappetino o rimettetele. Staccate le ginocchia e riportatevi a canna testa in giù, sciolgendo le vostre gambe, allungando la vostra schiena. respirando. Andate sulle dita dei piedi, spustate il peso sulle vostre spalle e sui vostri palmi delle mani, fate un passo, avvicinate i piedi alle mani, raddrizzate la vostra schiena, aprendo il petto, espirando testa giù, ispirando salite, unite i palmi delle mani e tornate con le mani, le braccia lungo il corpo. Ispirate di nuovo, portate su i vostri palmi delle mani e uniteli, espirando testa giù, vi piegate in avanti, ispirando mani sulle tibie o mani che rimangono sul tappetino, raddrizzate la vostra schiena, ispirando mani a terra, piedi alla fine del vostro tappetino, spalle sui vostri polsi, ginocchia a terra oppure andate direttamente giù in chaturanga, puntate i piedi, ispirando cane a testa in su ed ispirando, mettendo anche le ginocchia sul tappetino, cane a testa in giù. Guardate avanti, mettete le ginocchia a terra, incrociate le tibie e vi sedete con le gambe incrociate. Ok, mettete le mani a coppa dietro di voi, con le dita rivolte verso di voi avete i polpastrelli, non troppo lontani dei vostri glutei. Provate a tenere la parte lombare e dorsale centrale della vostra schiena dritta, aprite le spalle verso dietro, e cercate invece di inarcare la parte alta della vostra schiena, quindi di spingere il petto verso l'alto. Guardate in alto, se non vi fanno male le cervicale, continuate a guardare davanti a voi. Il movimento può essere anche impercettibile. Dovreste sentire un'attivazione della vostra colonna vertebrale, l'apertura delle spalle. È anche più difficile respirare in questa posizione qua, in questa postura, quindi se volete chiudete gli occhi, concentratevi sul vostro respiro, cercate l'inarcamento giusto per respirare dentro la postura. ispirate e ispirate e sciogliete. Camminate con le mani davanti a voi, mettete pure i gomiti sulla, su vostro tappetino, testa giù, rilassatevi. rilassate il vostro collo, la vostra schiena, magari la testa va sul tappetino, srotolate la vostra schiena partendo dal coccige e vi sedete di nuovo, mettete le mani davanti all'inizio del tappetino, allungate le vostre gambe, di nuovo andate in chaturanga, che può essere questo, che può essere questo, puntate i piedi, cane a testa in su e passate a cane a testa in giù, anche mettendo il ginocchio sul tappetino, guardate avanti, un passo avvicinati i piedi alle mani, raddrizzate la vostra schiena, vi piegate in giù, inspirate, tornate su e tornate con le braccia lungo il corpo. Prendiamo il movimento di prima, mani sui fianchi, apriamo di nuovo i nostri piedi, quindi ci preoccupiamo ancora della nostra schiena e finiremo sui polsi, quindi abbiamo fatto un lavoro verso la schiena, verso le spalle, partendo dalle braccia e finiamo ancora con le braccia. piedi distanti, come prima, paralleli tra di loro, aprite le vostre braccia, come se fosse una stella, non inarcate la schiena, spingete sempre gli schi verso il basso, spingete le spalle verso il basso, però le dita delle mani è come se volessero andare più distanti possibili dalle vostre spalle. Respirate, 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 riportate le mani sui fianchi, sciogliete, incrociate le dita delle mani dietro la schiena, come abbiamo fatto prima, ispirando, raddrizzate la vostra schiena e poi piegatevi in avanti. Questa volta lasciate cadere le dita delle mani davanti a voi. se è tanto mettete le mani sul tappetino, testa giù, o se no andate avanti come a lasciare il peso delle vostre mani verso il tappetino. respirate, 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 riportate le mani sulla schiena e riportate sul busto, piano, 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 e riportate le mani sui fianchi. Avvicinate i vostri piedi, facendo questo piccolo movimento di tallone e punte, se volete, e lasciate comunque i vostri piedi distanziati un pochino. Incrociate di nuovo le dita delle mani, palmi delle mani verso avanti, braccia parallele. Facciamo l'esercizio che abbiamo fatto all'inizio. Piegate un po' le ginocchia, inspirando portate su le braccia. Questa volta provate a staccare i talloni e andare sulle dita dei piedi, spingendo sempre i palmi delle mani verso l'alto e non inarcando i lobari. e torneremo con i talloni sul tappetino in un unico movimento. Quindi non ci pensate, ispirate ed ispirando andate verso il basso. Lo rifacciamo. Portiamo i palmi delle mani in avanti, ispirando portiamo su, andiamo sulle dita dei piedi, poco, non deve essere per forza il massimo, attiviamo le nostre gambe, gli schi verso il basso e di nuovo riporteremo i talloni e le braccia lungo i fianchi in un solo colpo. Inspiriamo ed ispirando. Ok. Portate le mani davanti a voi, fate di nuovo i pugni, portate giù le vostre nocche e su, portatele giù e su, aprite le dita, portatele giù e portatele su, portatele giù, portatele su. Non so se sciogliete, se sentite una differenza da quando abbiamo cominciato, magari sono più elastiche, magari riuscite a fare questi movimenti con più facilità. Incrociate di nuovo i palmi delle mani, portatele su le vostre braccia, portatele a destra, cercando di non andare là con le vostre anche, poi portate avanti le vostre braccia e a sinistra e su, a destra, avanti, a sinistra e su, invertite il giro, avanti e su, sinistra, centro, destra, su, sciogliete e concludiamo con il movimento che mi piace di più. Lasciate le braccia libere e pensate che siano le vostre anche a sparare le vostre braccia a destra e a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra. Potete continuare a farlo anche per mezz'ora. Io vi saluto e la Verdi vi saluta. Ciao! 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 Grazie a tutti